Sono sempre stata consapevole di essere unica. Fin da piccola ho capito che nella vita c'era qualcosa di più di quello che si vede. Guardavo spesso le stelle, chiedendomi quali segreti ci fossero oltre il nostro mondo. Non ho capito di essere una star sido finché non ho iniziato ad avere strane visioni. All'inizio pensavo che fosse tutto nella mia testa e un'illusione. Ma quando le visioni sono diventate più forti e più vivide, ho capito che c'era dell'altro. Ho iniziato a documentarmi sui semi stellari, e ho scoperto che sono anime che si sono incarnate sulla Terra con l'intenzione di aiutare l'umanità. La loro missione è quella di aiutare l'evoluzione spirituale dell'umanità, e di portare un cambiamento positivo nel mondo. Ho iniziato a comprendere il significato della mia connessione con le stelle, man mano che imparavo a conoscere il mio ruolo di starseed. Ho iniziato a meditare regolarmente, e a sintonizzarmi sulle energie cosmiche che mi attraversavano. Questa pratica mi ha insegnato a sfruttare le mie capacità, e a connettermi con altri starseed e operatori di luce, che lavorano per lo stesso obiettivo. Guardando le stelle, mi rendo conto che il mio scopo su questo pianeta è molto più grande di quanto potessi immaginare. Sono qui per aiutare l'umanità a evolversi, e per operare un cambiamento positivo nel mondo. Ogni giorno che passa, divento sempre più sicura delle mie capacità, e della mia missione di semi stellare. Ho iniziato a ricevere messaggi e indicazioni da esseri superiori, man mano che la mia connessione con le stelle si approfondiva. E essi comunicavano con me, sia in sogno che nella vita di veglia, forneendomi intuizioni e saggezza, come mai avevo sperimentato prima. Inizialmente ero sopraffatta dalla mole di informazioni che ricevevo. Tuttavia, quando ho imparato a fidarmi della mia intuizione, e a lasciare andare le mie paure, ho scoperto che potevo incanalare questa conoscenza e usarla per aiutare gli altri. Ho iniziato a lavorare con persone impegnate a elevare la coscienza umana. Lavoriamo insieme per realizzare programmi e iniziative, volti ad accrescere la consapevolezza e ad operare un cambiamento. Con ogni successo, so che sto compiendo il mio destino di semi stellare. Nonostante i miei progressi, sono consapevole che c'è ancora molto lavoro da fare. L'incoscienza, la povertà e la disuguaglianza, sono ancora problemi importanti in tutto il mondo. Pur sapendo di non poter risolvere questi problemi da sola, so anche che ogni piccolo passo è utile. Di conseguenza, persisto nei miei sforzi per raggiungere il mio obiettivo. So che la strada da percorrere sarà difficile, ma so anche che non sono sola. Come Starseed, faccio parte di un gruppo più ampio di esseri che lavorano tutti per lo stesso obiettivo. E ogni giorno che passa mi sento sempre più connessa all'universo, e alla basta rete di anime che lavorano per migliorare il mondo. Lavoriamo instancabilmente per inaugurare una nuova era di illuminazione. Condividiamo le nostre conoscenze e la nostra saggezza, con coloro che ci circondano, aiutandoli a risvegliare le possibilità illimitate che esistono dentro di noi. Vorrei quindi ricordare a tutti coloro che stanno leggendo o ascoltando, che anche loro hanno uno scopo su questo pianeta. Che siate Starseed, o semplicemente alla ricerca di una connessione più profonda con l'universo, sappiate che avete un ruolo da svolgere nel plasmare il mondo che vi circonda. Nei momenti di incertezza, ricordate di fidarvi sempre del vostro istinto, e della guida degli esseri superiori. Siamo tutti parte della stessa famiglia umana, e abbiamo tutti uno scopo su questo pianeta. Cercate di capire il vostro posto in questo mondo, e ricordate che non siete stati creati in isolamento, e che non siete mai stati soli nel vostro viaggio. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per noi stessi, e per le generazioni future. Ricordate che avete uno scopo su questo pianeta. Siamo tutti in viaggio, e forse c'è qualcuno che è stato dove siete voi oggi. È giunto il momento di lavorare insieme per innalzare la nostra vibrazione e rendere questo mondo un posto migliore. Dopotutto, ci siamo tutti dentro. Chiunque voglia evolversi ed essere più presente nella propria vita, ha la possibilità di farlo. Tutti abbiamo il potere di creare un futuro più luminoso, e di vivere con un significato. Il vostro scopo non è definito dalla vostra età. Il vostro scopo è crescere come essere umano, e fare un grande lavoro. Nulla è impossibile. Circondatevi di persone positive che vi sollevino, e vi ricordino il vostro scopo. Unitevi alla nostra bella comunità per diventare un individuo più potente e consapevole. La vostra presenza è già sufficiente per questo mondo. È tutta una questione di equilibrio. Siete uno starseed, avete uno scopo su questo pianeta, e potete plasmare il mondo intorno a voi. Quindi, facciamolo. Facciamo in modo che conti. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. Aho, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica. Aho, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica.